Ciao amici, ecco i 10 momenti più inappropriati e più indecenti nell'MMA e nel pugilato. L'ex combattente di MMA britanniche Alex Raid era abituato a finire in prima pagina dei tabloid inglesi a causa della sua reputazione solforosa e della sua partecipazione controversa a un reality show. Lontano dall'essere un ottimo combattente, come lo testimonia il suo palmares irrisorio, Alex doveva quindi fare il pagliaccio per attirare l'attenzione del pubblico e dei media, ma a furia di esagerare finisce spesso per ridicolizzarsi, come quando ha deciso di baciare sulla bocca il suo avversario Jason Barrett durante la pesatura prima dell'incontro. Questo gesto non è ovviamente piaciuto a nessuno, specialmente a Barrett, il quale si è ripromesso di picchiare Raid sul ring, ma il vantaggio girerà tuttavia in favore di Alex, visto che purtroppo vincerà l'incontro. Speriamo che troverà presto un avversario al suo livello, il quale gli darà una bella lezione. Heat Herring è l'archetipo stesso del combattente Katsuto, di cui il livello di testosterone raggiunge l'apice. Ma prima di entrare nelle fila della prestigiosa squadra UFC, l'Ultimate Fighting Championship, Herring aveva molto combattuto in Giappone. Ma se Herring si ricorda con nostalgia dei suoi primi combattimenti in Giappone, ce n'è uno che avrebbe preferito dimenticare per sempre. Quell'incontro fatidico si svolse nel 2005, durante l'evento K1 Premium Dynamite, il quale riuniva l'elite dei praticanti nipponici di arti marziali miste. Heat Herring doveva combattere contro Yoshihiro Nakao, un combattente tosto e provocatore, ma il quale non riusciva visibilmente ad impressionarlo. Il combattimento, che prometteva di essere epico, stava quindi per iniziare, quando all'improvviso Nakao si piegò verso il suo avversario e gli scoccò un bacio sulla bocca. Quel gesto inopportuno ebbe come effetto di far bollire il sangue a Herring, il quale rispose immediatamente mandando un terribile gancio destro direttamente sulla mascella del giapponese. Quest'ultimo crollò come una vecchia torre in rovina. Nakao era quindi KO ancora prima dell'inizio dell'incontro, mentre Herring si stava chiedendo se non avesse picchiato in modo un po' esagerato. Fortunatamente il combattente giapponese ne uscirà illeso ed Herring, benché criticato per la sua reazione, sarà riuscito a riabilitare il suo onore. In Bulgaria Kubrat Pulev è un pugile tosto, il quale accumula i titoli e le cinture al suo palmarès prestigioso, essendo l'orgoglio del popolo bulgaro. Considerato quindi come un autentico eroe nazionale, il pugile di 39 anni è tuttavia agli antipodi dall'essere un modello per i suoi concittadini. Perché se il burbero sa benissimo come essere il padrone sul ring, i suoi modi rozzi e i suoi gesti inopportuni con il genere femminile lo rendono davvero spregevole. Il suo atteggiamento inappropriato avrebbe alla fine raggiunto il suo punto più alto nel 2019 a Las Vegas, in cui doveva combattere contro il pugile rumeno Bogdandinu. Infatti, dopo la sua vittoria per KO, Pulev viene velocemente intervistato da una bella giornalista di Vegas Sports, Jennifer Rayalo. Alla fine di quella intervista, il pugile bulgaro bacia addirittura quest'ultima sulla bocca senza nemmeno lasciarle il tempo di spostarsi. Presa la sprovvista, la ragazza si lasciò andare una risata nervosa e fece finta di non essere scioccata da quel gesto inopportuno. Pulev si morse peraltro le mani sotto i suoi guantoni da box, visto che quell'episodio osceno gli sarà avvalso sanzioni più o meno gravi, ma anche un forte astio da parte dei difensori dei diritti delle donne. Quindi, possiamo solo sperare che il pugile bulgaro avrà imparato la lezione. La Croazia è famosa in tutto il mondo per i suoi paesaggi meravigliosi, ma anche, purtroppo, per i suoi pugili leggermente indisciplinati, ad immagine di Vido Lonkar. Proveniente da Zagabria, questo giovane pugile detiene senza dubbio la palma d'oro dell'indisciplina e della mancanza totale di fair play. Infatti, durante i campionati europei giovanili organizzati nella sua città natale nel 2014, il pugile croato aveva dimostrato un comportamento estremamente inappropriato. Mentre disputava il secondo round di un combattimento contro lituano Algirdas Baniulis, per un motivo che ci sfugge, l'arbitro aveva deciso di interrompere il combattimento in favore del lituano. È vero che quella decisione discutibile non è stata gradita da tutti e, in modo più particolare da Vido, il quale non ha accettato di farsi escludere dall'incontro. Ma la reazione del giovane pugile è stata più che sproporzionata, visto che ha messo K.O. l'arbitro con un terribile gancio destro, prima di accanirsi su di lui con una tempesta di pugni mentre era per terra. Ci sarà stato bisogno dell'intervento dello staff tecnico per liberare il povero arbitro dalle mani di Vido, il quale su tutte le furie non voleva mollare la presa. Per fortuna l'arbitro dell'incontro non subirà conseguenze dalle sue ferite, ma Vido poteva dire addio alla sua carriera da pugile. Infatti, il giovane croato è stato radiato a vita dall'Associazione Internazionale di Box Amatori, l'Aiba, e quindi non potrà mai più rimettere i suoi guantoni da box. Il che non è un'idea così pessima alla fine, visto che Vido non era chiaramente fatto per la box. Alcuni pugili sono modelli di esemplarità e di sangue freddo, e possiamo affermare senza rischi di sbagliarci che Vladimir Klitschko ne faccia parte. Questo ex campione del mondo ucraino, dei pesi massimi, ha sempre mostrato una calma e una concentrazione esemplare prima dei suoi incontri, non lasciandosi mai distrarre da nulla. Vladimir riusciva quindi a conservare la sua flemma leggendaria anche quando si faceva mancare di rispetto dai suoi avversari irrispettosi. Ma quando si fa sputare in faccia dal pugile inglese Derek Cisora, appena prima del suo incontro contro suo fratello Vitali, Vladimir ha proprio rischiato di perdere le staffe e dargli una bella lezione per insegnargli le buone maniere. Eppure Vladimir non farà nulla e riuscirà a controllarsi in modo tale che sembrava che si fosse trasformato in una statua di marmo. Il pugile ucraino ha letteralmente immerso i suoi nervi in un frigorifero, offrendo quindi il miglior esempio di autocontrollo di cui avrebbero dovuto peraltro ispirarsi un buon numero di combattenti. Un esempio tanto più incisivo quando si sa l'esito finale dell'incontro di suo fratello contro Cisora, visto che quest'ultimo è stato battuto alla grande. La lega MMA più sexy è sicuramente quella della Lingerie Fighting Championship, in cui ritroviamo combattenti stupende e carnose come la famosa Shelly da Silva. Ma se questa bella lottatrice è una combattente talentuosa e spietata non è tuttavia un esempio di virtù sportiva. Così, quando ha combattuto contro Allie Parks, da Silva non ha esitato a sputarla in faccia, dimostrando quindi il poco rispetto e la poca considerazione che avesse verso la ragazza. Peraltro la sua reputazione non è più da cambiare, visto che aveva già morso una delle sue avversarie durante un incontro, senza provare nessun pentimento successivamente. La da Silva incarna quindi quella combattente sexy e provocante, la quale utilizza le tecniche più sadiche senza scrupoli. E benché quelle cattive maniere siano ampiamente discutibili, la formosa combattente possiede ancora una forte base di ammiratrici e ammiratori. Ecco Michael Blair, per quelli che non lo conoscono ancora, è un giovane praticante americano della MMA di 23 anni, e il quale spera di diventare un giorno il campione indiscusso. Quel giovane lottatore esuberante è quindi disposto a tutto per vincere, in modo da esibire con orgoglio la sua vittoria davanti all'obiettivo delle telecamere. Ma appunto, mentre aveva appena vinto un combattimento duro contro il suo avversario Kiran O'Shea e che si stava gustando il suo piccolo momento di gloria, Michael Blair si è fatto rubare la scena da una ring girl. Infatti, quest'ultima ha deciso di mettersi proprio davanti al giovane combattente, nello stesso momento in cui i flash delle macchine fotografiche scrosciavano. Quindi Blair non si lascerà fare e spingerà la ragazza da parte, senza tuttavia forzarla, è vero. Ma tutto sommato, quel gesto piuttosto infantile non è visibilmente piaciuto alla giovane ring girl, la quale si è sentita scioccata di essere stata sfintonata così. Tuttavia, riconoscendo il suo errore, Blair si è ripreso e ha persino posato per una foto ricordo con la ragazza. Vedi, Michael Blair sa benissimo come redimersi con le signore. Riccardo Majorga è un pugile nicaragüense che non manca mai un'occasione per sfoggiare le sue cattive maniere da ragazzaccio. Ma a volte gli succede di tirare un po' troppo la corda e alcune delle sue azioni diventano così completamente inopportune. L'indecenza di Majorga si è quindi manifestata un'altra volta nel 2015 durante una conferenza stampa per promuovere il suo match di rancore contro Sugar Shane Mosley, un giovane pugile americano che lo aveva già sconfitto per KO nel 2008. Ma invece di trattare con riverenza l'avversario tosto che gli aveva già fatto vedere le stelle, Majorga gli avrebbe mancato di rispetto nel modo più spreggevole, picchiando il di dietro della sua ragazza. Infatti, quando quest'ultima voleva raccogliere un oggetto caduto per terra, si chinò appena davanti a lui. Il pugile Bad Boy ne ha approfittato per assestargli un colpetto sul suo sedere. Majorga era definitivamente andato troppo oltre quella volta, e basta vedere la ragazza uscire dalla scena in lacrime per rendersene conto. Ovviamente, Mosley gliele darà di santa ragione sul ring, il quale lo metterà KO per la seconda volta nella sua carriera. Decisamente, il giovane figlio di Billy Joe Saunders è sulla buona strada per riprendere il testimone dalle mani del suo papà pugile. Il ragazzo è infatti altrettanto scontroso e brutale del suo caro padre. Il povero pugile Willie Monroe Jr. può peraltro testimoniarlo, visto che ha avuto diritto a una piccola anteprima della forza del giovanotto. Infatti, durante una pesatura prima dell'incontro tra suo padre e Monroe Jr., il birbante si era avvicinato furbescamente a quest'ultimo prima di assestargli un pugno terribile direttamente nelle sue parti intime. Il birbante proseguirà allora con un calcio potente, prima di essere bloccato dallo staff di Monroe, il quale era intervenuto vedendo la forza dei colpi distribuiti. Il piccolo Saunders ha sicuramente dimostrato che fosse un buon figlio, sempre pronto a difendere suo padre, ma bisognerà tuttavia insegnargli il senso del fair play e dello spirito sportivo per diventare un giorno un campione come papà. Come abbiamo visto nel corso di questo video, le molesti e i palpeggiamenti a sfondo osceno e sessuale sono purtroppo frequenti all'interno delle gare di boxe e di MMA. Arthur Kolinsky fa quindi parte di quella razza di combattenti che rispettano pochissimo il genere femminile e che si permettono di comportarsi in modo molto inappropriato. Quel lottatore perverso è stato sorpreso mentre colpisce il sedere di una povera ring girl, di cui l'abbigliamento accattivante non l'aveva visibilmente lasciato indifferente. Quel gesto completamente indecente e inappropriato da parte di Kolinsky non ha fatto altro che attirargli l'ostilità di un buon numero delle sue fan. Kolinsky avrà quindi molta strada da percorrere per riconquistare la fiducia delle sue ammiratrici, le quali vedono in lui solo un cattivo personaggio senza scrupoli. Speriamo soltanto che non lo rifaccia mai più. Ed ecco, è tutto per oggi. Quale di questi 10 momenti inappropriati e altamente indecenti dell'MMA e della boxe ti ha impressionato di più? Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata al nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto.